Musica In Regione avvia la ventunesima giornata della colletta alimentare. Sono oltre mille i volontari impegnati nell'iniziativa per donare e distribuire cibo ai più disognosi. Oggi si celebra la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Il Molise è sensibile al tema e gli appuntamenti su ogni forma di discriminazione riprenderanno regolarmente il prossimo lunedì. A Termoli discussione sul piano di sviluppo del distretto del Molise orientale in attesa di investimenti pubblici e privati a febbraio e ritorno alla BIT di Milano. Giornata rosso-blu domani pomeriggio a Selvapiana a Campobasso nel confronto con la capolista Matelica in casa anche l'Agnonese contro la Iesina. Ben ritrovati con l'informazione di TLT Molise in apertura. Un incidente perché si trova ricoverato all'ospedale veneziale di Sernia. Un giovane di 19 anni è rimasto seriamente ferito nella tarda mattinata di oggi nel corso di un incidente stradale sulla fondo Valle Trigno tra gli svingoli di Chiauci e Pescolanciano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per estrarre il giovane dalle lamiere. Il giovane era a bordo di una Renault quando il mezzo è uscito fuoristrada accartocciandosi sul guardrail. E sono oltre mille i volontari in Molise che nei pressi di un centinaio di punti ventita invitano nell'ambito della ventunesima giornata della colletta alimentare le persone a donare cibo ai più sfortunati. Ma vediamo. 21 anni di colletta alimentare, una iniziativa voluta ed organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus che da sempre si è dimostrata importante e davvero utile a sostenere le persone indigenti che non sono affatto poche e che anche in Molise rappresentano una percentuale abbastanza alta della popolazione. Una colletta che quest'anno impegna oltre mille volontari e che vele l'impegno e l'adesione di almeno un centinaio di esercizi commerciali. La ventunesima giornata nazionale della colletta alimentare è un'esperienza di carità molto semplice al quale possono aderire veramente chiunque. Qui con noi abbiamo un sacco di ragazzi che vengono da altri paesi, abbiamo un sacco di ragazzi. È un'esperienza semplice. Chiediamo a chi va a fare la spesa di poter donare qualcosa per chi ha più bisogno. Quello che mi stupisce ogni anno è che il popolo molisano è sempre molto attento a questa esperienza. Infatti ci sono tantissime persone che ci aspettano, anzi ci vengono loro a chiedere sia la busta che il volantino per poter donare qualcosa. Quindi un grazie e speriamo di poter raggiungere un numero alto come abbiamo fatto gli altri anni. Tutti gli alimenti che noi raccogliamo qui in Molise rimangono in Molise e sono per il sostentamento e l'aiuto di quelle famiglie che ogni giorno ci chiedono un aiuto. Noi qui a Campobasso siamo in 18 associazioni di volontariato e andiamo mensilmente a trovarli a casa per dargli un conforto, sia alimentare ma anche un abbraccio. Farci dei numeri? Numeri. A Campobasso e dintorno aiutiamo più di mille famiglie. Se pensiamo che dietro ogni famiglia ci sono anche più bambini, capite bene a che persone arriviamo e qual è l'importanza di questo gesto. Un numero sempre più in crescita, però la solidarietà è un gesto fattibile per chiunque, chiunque vuole donare e chiunque può donare. Per cui oggi vi aspettiamo e speriamo di fare una bella raccolta. C'è anche un numero verde se non sbaglio? Sì, oggi per chi non può andare a fare la spesa possiamo dare una mano attraverso l'SMS solidare al numero 45547. All'iniziativa danno un sostegno davvero importante anche numerosi extracomunitari che non si sottraggono alla scelta solidale dopo aver ricevuto l'aiuto e la vicinanza di tanti italiani. Ci sono qui per aiutare le persone che sono povere, sono contento di aiutare, come oggi la giornata da oggi è volontaria, mi piace molto. Io vengo dal Mali, sono maliano, sono arrivato in Italia un anno e tre mesi fa, da quando sono arrivato in Italia nessun problema. E dopo la vicenda dell'uomo che nella giornata di ieri ha minacciato di buttarsi dal tetto dell'Asrem di Campobasso, i sindacati si scagliano contro una certa imprenditoria. Un gesto disperato quello dell'uomo che nella giornata di ieri ha minacciato di gettarsi dal tetto dell'azienda sanitaria di via Ugo Petrella dopo aver disperatamente chiesto alla direzione aziendale come mai una ditta esterna non aveva ancora pagato le spettanze di numerosi mesi ai suoi dipendenti. Una vicenda triste che dovrebbe far riflettere l'operaio, lavoratori in una ditta edile del capoluogo, erano mesi che aspettava in vano lo stipendio e dopo sette mensilità non aveva più nessuna risorsa per poter tirare avanti. Ricordiamo che già nei mesi passati i lavoratori della ditta avevano protestato per difendere i propri diritti e unitamente alle organizzazioni sindacali si era cercato di trovare soluzione per il pagamento degli stipendi arretrati fino a ricorrere più volte a confronti con la dirigenza dell'ASREM e al prefetto. Purtroppo, dicono le organizzazioni, la testa d'aggine dell'impresa edile arrisovano questi incontri. I sindacati stigmatizzano il comportamento di una certa imprenditoria, che da tempo non ha più a riferimento il valore della responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'importanza del ruolo sociale che l'impresa ha nei confronti del territorio e di cui bisogna ragionare sulla sua utilità. I sindacati ritengono che il settore delle costruzioni debba trovare la forza per fare scelte che favoriscono le imprese sane, che guardano alla qualità e alla responsabilità di fare impresa nel Molise, eliminando gli spazi per gli affaristi senza scrupoli. Abbiamo adesso argomento perché l'associazione è mai più sole di Termoli. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne intende dare il proprio contributo martedì 28 e con le ore 17.30 nei locali della Chiesa del Sacro Cuore con la proiezione del documentario Il corpo delle donne, al quale seguirà un dibattito sugli stereotipi femminili veicolati dai mass media. E in occasione proprio della giornata mondiale contro la violenza sulle donne è importante ricordare proprio l'importanza della prevenzione. Il rapporto EURES fotografa ancora una situazione allarmante. Come ogni anno si festeggia la giornata mondiale contro la violenza di genere, una situazione che in Italia sembra non arrestarsi. Anzi, secondo i dati del rapporto EURES, pubblicato in occasione della ricorrenza, si evince che sempre più donne sono vittime di abusi e violenze. Nei primi dieci mesi del 2017 sono state uccise ben 114 donne. Si conferma così la tendenza registrata nel 2016, anno in cui la violenza sulle donne è tornata ad aumentare con una crescita del 5,6% rispetto all'anno precedente. Infatti tra il 2015 e il 2016 il numero dei femminicidi in Italia è passato da 142 a ben 150, soprattutto a causa di una forte crescita del fenomeno nelle regioni del centro e del nord Italia. Anche in Molise è forte il ricordo di questa giornata e anche le forze armate si sono messe al lavoro per sensibilizzare la popolazione. In relazione a tale fenomeno, il comune di Campobasso, assessorato alla cultura e alle pari opportunità, assessorato allo sport, condividendo gli intenti del programma con la consigliera di parità della regione in Molise, con l'osservatorio delle pari opportunità, con la provincia di Campobasso, nonché con le associazioni che operano sul territorio in sinergia con gli istituti scolastici della città, ha inteso realizzare anche una serie di iniziative dirette a sensibilizzare la popolazione, in particolare gli studenti, sulle tematiche relative alla violenza di genere, alla violenza contro le donne e in particolare ad ogni forma di discriminazione. Si ricorda che tutte le attività riprenderanno nella giornata di lunedì 27 novembre. Presentata dall'Onorevole Danilo Leva, un'interrogazione al Ministro dei Beni, delle attività culturali e del turismo riguardante la situazione dei musei di San Pietro, Avellana e di Zernia. Diversi soggetti, sia istituzionali che sociali, dichiara l'Onorevole Leva, hanno evidenziato una serie di criticità relative ai due musei su cui hanno ritenuto opportuno interrogare il Ministro. Ci spostiamo sulla costa adesso dove a Termoli è stato presentato il piano di sviluppo del distretto orientale. Il piano consiste nell'analisi territoriale con l'attenzione sulle peculiarità del territorio, le strategie di crescita e le basi di riferimento. Intanto a Montenero di Bisaccia il 12 dicembre sarà inaugurata la sede del Molise orientale e della prossima estate del porto di Termoli sarà attivato il collegamento turistico via mare verso la Croazia. Lo scopo è molto semplice, quello di mettere in evidenza e quindi approvare il piano del distretto che è un'analisi della situazione strutturale, infrastrutturale dei beni materiali e immateriali della nostra realtà e da qui partire per un'ipotesi di linea di sviluppo che devono coinvolgere tutti gli operatori privati che ritengono opportuno partecipare perché possono migliorare le loro attività e possono investire in un settore che deve essere un settore di sviluppo economico. I comuni sono invitati a? I comuni fanno parte del distretto ma il pubblico deve fare la propria parte, il privato deve fare la propria parte e avere la capacità di investire migliorando le proprie iniziative e il pubblico deve fare in modo che le infrastrutture siano adeguate perché il privato possa migliorare le proprie attività. I vostri incontri sono itineranti per tutta la regione, prossimi appuntamenti? Noi adesso stiamo lavorando sulla BIT che si terrà l'11-13 febbraio a Milano, un appuntamento a cui non manchiamo e che già avete coinvolti più di 70 piccole imprese e più di 50 comuni, quindi la partecipazione diventa massiccia. In più stiamo andando avanti con il discorso della formazione, già il 4 dicembre vi sarà un primo seminario formativo sul Made in Italy e il Made in Molise. In arrivo fondi per l'edilizia scolastica, le province incassano il primo successo in vista del triennio 2018-2020, aumentano le risorse in particolare per le scuole superiori al centro di un cospicuo taglio negli ultimi anni. Nello specifico il decreto per la nuova programmazione triennale assegna alle scuole una cifra vale a 1,7 miliardi di euro, così approvato in conferenza unificata. Le risorse degli enti locali saranno assegnate non più sulla base di un numero di scuole, ma su quello degli alunni. La mancata attenzione delle istituzioni regionali alle famiglie e delle sfortunate persone affette da disabilità che non si vedono riconosciuto il giusto sostegno economico e sociale. Lo sguardo critico di Emilio Izzo in relazione alle condizioni di numerose famiglie dove sono presenti persone affette da disabilità che sono lasciate sole dalle istituzioni regionali che non ritengono sostenerle economicamente e attraverso le varie iniziative sociali. È chiaro a tutti che noi ci stiamo vedendo con la struttura regionale da giugno quando iniziamo le nostre proteste sotto il palazzo. Da allora, come dire, ob torto collo ci hanno dovuto ricevere in prima istanza e poi più volte essere convocati da loro perché hanno preso in mano la questione. E' chiaro da allora che i fondi che erano stati erogati nel 2015 in poi erano andati alle cooperative per capire così chi ci sta sentendo capisce meglio. Cioè di un milione e 800 mila euro che dava lo Stato si decise allora a cavallo con l'ex assessore petrolio che lasciava che l'80% andava ai servizi e il 20% alle famiglie. E' chiaro che questo 20% prendeva poche famiglie, l'80% era il corpo forte. Adesso si è stato tutto questo tempo per capire quei fondi dove stavano. Quando è stato detto più volte che il 60% era stato erogato come anticipazione e il 40% al saldo. Adesso qualcuno continua a dire, sì ma questo saldo, questo saldo, ho capito, il saldo arriverà, ne sono certo. Cioè le cooperative che non fanno il saldo mi sembra assurdo. Ma quei fondi di fatto non ci stanno, ma lo sapevano tutti. Lo sapevano tutti chi partecipava a questi incontri. Adesso noi invece siamo riusciti in una cosa incredibile, a recuperare 150 mila euro che erano destinati ad altro. E quindi a fare una sorta di, come dire, di carpetta insomma. Siamo riusciti anche insistendo molto con Frattura e Facciolla a dirottare questi 150 a dare un acconto alle famiglie. Quindi un acconto con le 150 e con i prossimi bilanci mettere in bilancio le nuove cifre che saranno queste sia adesso a tutte le famiglie che ne faranno richieste a differenza da prima. Non c'è più la percentuale, più un recupero sempre in bilancio delle somme che se ne sono andate perse. Ecco questa è la situazione però da questo momento in poi le famiglie, i rappresentanti, chi può, venisse ai tavoli perché noi siamo abituati a portare ai tavoli gli interessati, non andarci da soli. E le famiglie che stanno con lui sanno perfettamente come stanno le cose. Ricordiamo che nei locali del dopolavoro ferroviario di Campobasso, oggi pomeriggio ci sarà la celebrazione del centenario della rivoluzione di ottobre di Lenin in Russia. L'iniziativa organizzata dal Partito Comunista del Molise alla presenza del dirigente nazionale Ugo Moro. Una giornata dedicata all'eoneurisma della orta addominale, oggi alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. In evidenza i rischi, i casi di mortalità e gli interventi. La rottura dell'aneurisma della orta addominale oggi provoca almeno 6.000 morti in Italia. Più del 50% di chi ne è colpito non arriva neppure in ospedale e solo il 50-60% di chi è operato in urgenza riesce a salvarsi. Con un intervento preventivo invece la mortalità cala drasticamente. Di tutto questo se ne è parlato stamane alla Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II in occasione della seconda giornata monotematica dell'aneurisma della orta addominale. Un evento organizzato dall'unità di chirurgia vascolare coordinata dal dottor Pietro Modugno. È una patologia molto silenziosa nel senso che nell'elezione non dà nessun grosso dolore. Il dolore purtroppo subentra quando praticamente l'aneurisma è in fase di rottura o di fissurazione. Però quando siamo in queste condizioni siamo già un passo oltre. L'intervento per risistemare un aneurisma in fase di rottura ha una mortalità del 50% circa, in elezione del 2%. Non sono sovrapponibili, non sono paragonabili i due rischi operatori. Molte volte l'aneurisma è asintomatico, non dà dolore. Allora uno lo scopre perché fa un accertamento rutinario per un'ecografia, per un problema di calcoli alla colecistica, di calcoli carenale e tutto e si scopre l'aneurisma. Altre volte invece perché il medico continuando a visitare, cosa che spesso non si fa più mettendo la mano sulla pancia, si accorge di questa tumefazione pulsante e fa fare al paziente una banale ecografia. Oltre che tutti i pazienti che hanno determinati fattori di rischio per ipertensione, diabete, colesterolo alto, familiarità per l'aneurisma rotto in famiglia, parenti di primo grado, devono necessariamente e mandatoriamente fare un'ecografia dell'orta addominale, che costa pochissimo e serve molte volte a salvargli la vita. In questa patologia sono praticamente, quest'ultimo anno abbiamo fatto circa 50 aneurismi dell'orta addominale. In generale abbiamo fatto circa 310 aneurismi dell'orta addominale trattati un 50% per via endovascolare e un 50% per via open, con una mortalità complessiva dell'1,3% per l'endovascolare e dell'1,4% per la chirurgia open. Molto di gran lunga al di sotto delle linee guida nazionali che intorno, che usciranno tra il 2 e il 3%. Quanto alla chirurgia arteriosa, come spiegato dal dottor Modugno, in 14 anni in fondazione sono stati effettuati 3.000 interventi con uno 0,8% di mortalità complessiva. La zampogna molisana tra i patrimoni culturali dell'umanità. Questo è il tema al centro di un dibattito che si terrà proprio a scapoli in occasione dell'incontro zampognaro d'autunno. Il tema di candidare la zampogna per la sua iscrizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale e materiale dell'umanità si inserisce proprio in quella che sin dalle origini costituisce la cifra distintiva del circolo della zampogna. Cambiamo decisamente argomento, adesso parliamo del piano neve. In attesa delle possibili precipitazioni nevose, il presidente del Lanci Molise, Pompilio Sciulli, invita ad avere maggiore riguardo per le zone più a rischio della regione. L'inverno è ormai alle porte, i comuni dell'Alto Molise debbono seriamente pensare alla stagione invernale, pensare al piano neve, il comune di Pesco Pennataro l'ha già fatto. Noi a Pesco Pennataro abbiamo il nostro piano neve approvato e che ogni anno rivediamo. Qui a Disernia si è tenuta una riunione con la sua eccellenza il prefetto, il quale ha convocato tutte le autorità preposte. Ovviamente io sono stato presente come presidente del Lanci Molise e lì in qualche modo ho avanzato le vere problematiche della neve, che si vivono soltanto nell'artissimo Molise, perché per il resto la neve sì esiste, ma non certamente crea i disagi, le difficoltà che può creare lì da noi. Tra Pesco Pennataro, Capracotta, Agnone, Caroilli, lì esiste la neve e quindi lì devono essere concentrati i mezzi e lì devono essere concentrati gli interventi principali. Non accetto che si parli di interventi principali sui Sernia o sul Venafro, a mio avviso qui la neve non si sa neanche cos'è. Da noi, e noi siamo in alta montagna, stiamo a mille metri, l'anno scorso siamo stati 15 giorni isolati, quindi è normale che le turbine, la base la devono tenere a Pesco Pennataro e Capracotta, non la possono tenere a Feliniano oppure a Longano. Sicuramente ci saranno disagi anche lì, ma non come da noi. Quindi sappiamo che ci sono due turbine pronte, di cui una deve stare fissa a Capracotta e l'altra fissa a Pesco Pennataro, perché lì servono le turbine, non altrove. Quante risorse occorrono per finanziare il piano neve, nello specifico a Pesco Pennataro? Nello specifico a Pesco Pennataro non ne facciamo fronte con 150.000 euro annuali. L'anno scorso abbiamo avuto il contributo dell'ANAS, che ci è venuto in soccorso. Anche quest'anno io come Presidente Anci ho chiesto che l'ANAS, una volta che abbia fatto il lavoro sulle proprie strade di competenze, quindi abbia messo a posto quello che deve mettere a posto in quanto li compete per legge, a quel punto può utilizzare, deve utilizzare, perché ANAS è stato, i propri uomini e i propri mezzi che deve mettere a disposizione dei comuni per le strade interne, per le strade provinciali, laddove la provincia non può arrivare. La provincia quest'anno ha una buona dotazione finanziaria, parliamo di un miliardo, di un milione e cinquanta mila euro, di cui 850.000 euro li ha già nel bilancio di previsione, quindi li ha già in cassa. Circa 200.000 euro li sono stati promessi dalla regione molise, quindi ecco, almeno che non succeda una cosa, il doppio di quello che è successo l'anno scorso siamo coperti. Si è svolta invece a Petrella Tifernina la presentazione di abitare luoghi. Il protocollo d'intesa è sottoscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale del Molise e dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Abruzzo e Molise per consentire ai 38.000 studenti molisani di visitare 150 comuni delle due regioni e di accogliere studenti abruzzesi che faranno visita ai borghial della loro regione. Tra gli insegnanti molisanici c'è molta attesa nel mettere in atto questa esperienza pedagogica ed innovativa. Gli spunti letterari dell'ultimo romanzo della scrittrice Antonella Presutti nevica poco e male negli interventi dei critici intervenuti proprio a Campobasso alla presentazione ufficiale. Ma vediamo. Non solo una insolita sala piena di persone alla presentazione ufficiale di Nevica poco e male l'ultimo lavoro letterario della scrittrice Antonella Presutti docente del liceo scientifico Romita di Campobasso e presidente della Fondazione Molise Cultura ma anche molta attenzione per le parole dei critici che sono intervenuti nel corso dell'iniziativa. Io intanto leggo questo libro con gli occhi di una persona che abita in Molise da una decina d'anni quasi ma che vede ancora il Molise con gli occhi di qualcuno che viene dall'esterno. Insomma ci si sente parte del territorio e stranieri a contempo. Senz'altro ha una dimensione locale questo libro ma anche degli spazi di apertura nazionali se non internazionali perché se è vero come è vero che la letteratura parla di letteratura spesso questo libro è ricchissimo di citazioni nascoste, di intertestualità e raggiunge anche da alcuni punti di vista un sublime del dolore, un sublime della decadenza quindi andiamo veramente indietro nel tempo, andiamo quasi, insomma se vogliamo parlare di sublime a metà del Settecento, poi dopodiché il romanticismo dell'Ottocento, la riscoperta anche delle città malvagie nell'Ottocento fino poi ad arrivare a quegli esperimenti di descrizione anche molto difficile e veritiera come è la vita appunto delle città in cronache di poveri amanti, di pratolini o nel quartiere sempre di pratolini quindi poi la luce si apre in questo libro, si apre naturalmente alla fine, all'inizio e anche insomma durante il suo svolgimento. È un libro cupo, è un libro autunnale, è un libro che ci mette secondo me di fronte senza tante, senza troppi lirismi anche al profondo dolore della vita è una cognizione del dolore, ecco per citare un altro testo importante che non può essere, insomma, confrontato ma la cognizione del dolore è anche la cognizione del dolore dei muri di una città. L'incontro dibattito questo pomeriggio invece al seminario Vescovile di Trivento sul tema dalla profezia di Don Maida, la camera alla profezia di Papa Francesco ospite della scuola di formazione politica Paolo Borsellino, padre Marcello Barlus Guardiamo adesso insieme le notizie del meteo Cielo coperto su gran parte del Molise, parziali schiarite dalla sera sulla fascia adriatica le temperature odierne sono previste tra i 10 gradi di Campobasso e la massima di 16 a Termoli ventilazione sud-occidentale, mare quasi calmo domattina sulla regione sono previsti maggiori spazi di cielo soleggiato valori climatici in calo, venti da sud-ovest Le strategie programmatiche ed operative da mettere in campo nell'attività motoria nell'età evolutiva, la discussione si è svolta oggi ad Isernia nel palazzo della provincia l'incontro ricordiamo con gli esperti è stato curato dal CONI e passiamo come di consueto al calcio di serie D girone F per la quattordicesima giornata di andata della serie D fischio d'inizio alle 14.30 in questo fine settimana in casa le Molisane, Campobasso e Olimpia Agnonese Castelfidardo, Pineto, Campobasso, Matelica, Fabriano, Vispesaro, Francavilla, Vastese, L'Aquila, San Marino Nero, Stellati, Monticelli, Olimpia Agnonese, Iesina, Re Canatese, Avezzano, San Nicolo, San Giustese Matelica in testa 34 punti, Vispesaro 31, Vastese 29, Campobasso e Avezzano 23 L'Aquila, Pineto e San Marino 20, San Giustese e Francavilla 19 punti Castelfidardo 18, Iesina 17, San Nicolo 13, Olimpia Agnonese 11, Re Canatese e Fabriano 10 Monticelli 6, chiude Nero Stellati a 2 punti In eccellenza e promozione regionale invece siamo giunti alla dodicesima giornata Vediamo il quadro completo delle partite All'Ife, Boiano, Campobasso 1919, Sernia, Gambatesa, Treppini, Matese, Olimpia Riccia, Vasto, Girardi, Sesto Campano, Guglionesi, Spinete, Venafro, Termoli, Frentania, Vulcani, Campo di Pietra Chieuti, Termoli 2016, Ferrazzano, Comprensorio, Vairano, Matese, Baranello, Pietra, Monte Corvino, Molise, Rocca Sicura, Castel Mauro, Roseto, Cliternina, Santeliana, Casalnuovo e Ururi, Carovilli Il presidente della regione Molise Paolo Di Laura Frattura ha partecipato ieri sera a Castropignano all'annuale festa del calcio molisano Il governatore ha premiato le squadre protagoniste degli ultimi campionati di eccellenza e promozione e ha rivolto un saluto alle centinaia di persone presenti rappresentanti delle tante realtà calcistiche molisane I prossimi campionati nazionali universitari in Molise invece si svolgeranno a maggio 2018 per la prima volta saranno itineranti, un'occasione di visibilità sportiva e turistica anche per il Venafro uno dei centri scelti in regione per lo svolgimento delle gare un evento ai campionati universitari che serviranno per creare grande attenzione proprio intorno alla città e confrontarsi in una manifestazione a carattere nazionale Con questa era l'ultima notizia, vi ringrazio come di consueto per avermi seguito e vi lascio alla nostra programmazione, sempre in nostra compagnia Arrivederci 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 Grazie a tutti.